50 volte Marco Mancosu, 50 gol segnati con la maglia del Lecce per un giocatore che entra di diritto nella storia del club giallorosso. Premio in vista per il capitano indiscusso dei Salentini sarà il presidente Sticchi Damiani prima della sfida di domani contro Lentella consegnare al centrocampista la maglia celebrativa di questo record personale. Mancosu Lecce è una storia che dura da 5 stagioni, un rapporto fatto di legami affettivi, sentimenti sinceri e attaccamento di un uomo ad un'intera città che ormai sente sua e di una città all'adottato calciatore. Il numero 8 che con il giallorosso ha capovolto la traiettoria della sua vita professionale è quella del calcio leccese in poche stagioni. Marco affrontato, gestito e superato gioie e delusioni perché anche quelle ti legano profondamente ad una maglia e ti spingono a cercare successi che lui ha conquistato e raggiunto proprio con i giallorossi, sempre sostenuto dalla dirigenza e dalla tifoseria. Una colonna portante anche nell'Olimpo del calcio italiano, dei suoi 50 gol, 14 li ha messi a segno nella passata stagione in Serie A. Lavoro, sacrificio, impegno e dedizione, valori che lo legano al club e che hanno da sempre contraddistinto la sua storia con il Lecce, quella storia che farebbe commuovere chi il calcio lo guarda con un occhio romantico. 8 gol e 9 assist recita il suo bottino in questa stagione ma l'obiettivo è chiaro, continuare a grandi passi verso nuovi record perché di giocare con questi colori Marco non si stanca mai.